Italia! 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 Era veramente l'orgoglio di tanti palabolisti che da pallavolo per la prima volta vinciano a me la l'olimpica d'oro. Ma sono stati i complimenti più belli che hai ricevuto? Da mia zia e mia madrina che mi hanno fatto commuovere delle mie parole profonde che mi hanno ricordato un po' il passato e tutto il percorso che ho fatto per arrivare qui e qua. C'era solo che era un momento storico, c'è stato prima il mondiale del 78, c'è stata la prima grande manifestazione al Palaeo, Palaeo Pieno dove in Italia è arrivata la seconda. Poi c'è stato un campeonato che è cresciuto dopo quella manifestazione del professionistico con il periodo alla sua importanza. Poi c'è statoチャ Grazie per la visione.